Hanno ricevuto il applauso del consigliere regionale Corrado Matera le iniziative sportive e culturali che negli ultimi giorni si sono svolte a Sala Consilina regalando al pubblico emozioni e divertimento. Fa davvero piacere, ha affermato il consigliere Matera, partecipare ad iniziative inedite e meritevoli soprattutto quando sono finalizzate ad aggregare e vedono protagonisti i giovani. Tre recenti eventi svoltisi a Sala Consilina confermano che da parte delle nuove generazioni c'è grande fermento e voglia di crescere insieme. I tre eventi sono la prima edizione del torneo Sala Cup 2023, il TEDx, anch'esso alla sua prima edizione, è incentrato sul tema Pluralia, le cose plurali e il Fritz Festival, svoltosi alla polo culturale Cappuccini con incontri, talk, musica e proiezioni. Il Sala Cup 2023, torneo di calcio A5 organizzato alla Pala Zingaro dalla Pro Sala FC, è stato un evento non solo sportivo ma dedicato anche alla solidarietà con una raccolta fondi e momenti di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie croniche intestinali. Nella serata dedicata alle premiazioni, ha ricordato il consigliere Matera, il ricavato è stato devoluto all'Associazione Nazionale Amici Italia, che affronta i problemi sociosanitari di adulti e bambini affetti da colite ulcerosa e da malattia di cron. Nella cornice del Teatro Comunale Mario Scarpetta, il 31 luglio scorso, si è invece svolto il TEDx, progetto nato per stimolare e diffondere l'innovazione intesa come cultura delle idee. Il tema scelto per questa prima edizione è stato Pluralia, le cose plurali, vale a dire i legami, le interazioni, le connessioni indistinguibili che abitano noi stessi e le cose. L'evento per il consigliere Matera è stato un momento molto interessante, di confronto non banale, su alcuni temi di stretta attualità. Un gruppo di giovani professionisti valdianesi ha affermato, ha voluto portare nel Vallo di Diano un format internazionale, che può essere un valido modello di innovazione anche nel campo della cultura delle idee. All'Apollo Cappuccini si è infine svolto il Fritz Festival alla sua quinta edizione, con eventi dal 31 luglio al 2 agosto, che hanno coinvolto tanti giovani in incontri culturali, proiezioni, talk, concerti e DJ set. Tanto divertimento ma anche importanti momenti di riflessione. Parlare delle aree interne e offrire un'alternativa allo spopolamento che le interessa, ha affermato il consigliere Matera, è stato uno degli argomenti sotto i riflettori del Fritz Festival. L'evento, anche questo con protagonisti giovani, ha proposto tre giorni di musica e cultura al Polo Cappuccini, mostrando una visione territoriale, dinamica e lontana dagli stereotipi. In tutti e tre i casi, ha concluso il consigliere regionale Matera, complimenti davvero agli organizzatori per essere riusciti ad aggregare i giovani del Vallo di Diano, stimolando la coscienza di tutti al confronto, alla discussione e alla solidarietà. Grazie a tutti.